Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, puntata numero 42 del settimanale Fano TV. È scattato per l'Alma Juventus Fano il conto alla rovescia. Cinque partite alla fine della stagione, ma l'auspicio è che ce ne sia una sesta per salvare il posto in Serie D. del momento dell'Alma Juventus Fano e delle prospettive che si aprono per questo finale di stagione. Parleremo con Guido Guerrieri, portiere della squadra Granata. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Diciamo di questo punto alla rovescia, particolarmente sofferto. Cinque partite alla fine della stagione regolare, in cui provare a risalire questa classifica, che al momento vi condanna. Sì, assolutamente. Adesso ci aspettano queste cinque partite e ci troviamo in questa situazione un po' complicata. Però noi crediamo in noi stessi e siamo convinti che ce la faremo. Ripartiamo dalla partita che avete giocato prima di Pasqua. Certamente non la vostra migliore prestazione, si può tranquillamente dire. Abbiamo anche le immagini di questo pareggio con l'Atletico Ascoli. E' finita 1-1 una partita che abbiamo già avuto modo di commentare, molto condizionata dal vento. Però il vento condizionava entrambe le squadre e l'Atletico Ascoli ha comunque interpretato meglio la situazione. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Non abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista del gioco. Fortunatamente siamo riusciti a portare via un punto, nonostante le condizioni climatiche non aiutavano. Tra l'altro vediamo qui un paio di situazioni in cui sei stato protagonista perché va riconosciuto come l'Atletico Ascoli avrebbe potuto colpire per primo nell'arco del match. Sì, assolutamente. Meditava qualcosa in più l'Atletico Ascoli, però mi hanno messo in mostra a me e mi sono anche divertito. E poi è arrivato il gol dell'Alma. Ora tu di mestiere fai il portiere e ti chiamo a metterti nei panni del tuo collega molto più giovane, l'Atletico Ascoli. Quando ci sono quelle condizioni meteo non è il caso di avventurarsi in usciti che potrebbero risultare improbabili? È consigliata la prudenza, sei d'accordo? Sì, poi lui essendo un portiere comunque giovane questi gol che subisce gli servono da esperienza e fa tutto bagaglio. Vedremo tra poco invece il gol che ha permesso, dopo che l'Atletico Ascoli sul finire del primo tempo ti ha chiamato ad un nuovo intervento salva risultato. Vedremo tra poco il gol che ha incassato l'Alma, un gol abbiamo detto evitabile perché da rimessa laterale, difesa schierata, in quelle circostanze non si dovrebbe permettere. Almeno questa è la teoria all'attaccante avversario di penetrare centralmente in area di rigore. Sì, ecco, in questa situazione in cui ci troviamo il dettaglio fa la differenza. Noi lo sappiamo, siamo consapevoli di questo e cercheremo di evitare certi errori che purtroppo fanno parte del gioco. Sbagliamo tutti e in questa situazione magari la paura di sbagliare ti fa sbagliare. Noi dobbiamo liberarci mentalmente. Non facile per una squadra che abbiamo sempre detto, particolarmente giovane, non a caso l'unico primato che può vantare l'alma quest'anno è quello della classifica giovane di valore. Sì, appunto, siamo una squadra giovane e quindi molti dei miei compagni non hanno l'esperienza necessaria per gestire questo momento anche psicologicamente complicato. Sì, non ci sono mai trovato in questa condizione di salvarsi, però ecco, quello che consiglio io è di prenderla come una sfida e ce la faremo. Dicevamo del gol dell'Atletico Ascoli, credo che sia stata determinante, però alla fine la deviazione leggera di Dubaz che ha permesso al pallone di Scavalcarti, altrimenti forse saresti riuscito a neutralizzare anche quella conclusione. Sì, ecco, purtroppo c'è stata una piccola deviazione che mi ha messo un po' fuori gioco e fa parte del gioco. E forse anche del momento che non è nemmeno particolarmente fortunato, perché al di là degli episodi ricordiamo che l'alma ha perso per strada due pedine fondamentali, Tomassini prima e soprattutto Calombo. Sì, ecco, abbiamo anche avuto molti infortuni quest'anno, io all'inizio, Calombo, Alessandro e tanti altri ragazzi che, diciamo, non è una stagione fortunata ma porteremo la fortuna dalla nostra parte in queste ultime partite. Diciamo che la tua disavventura è ripartito molto bene, ti hai rimesso in evidenza nelle prime giornate di campionato, poi questo impatto in allenamento e la frattura dello zigomo, se non ricordo male. Come hai vissuto quel momento dal quale però sei uscito, credo, con grande intraprendenza, perché ti sei subito riproposto nel momento in cui sei tornato reclutabile a certi livelli? Sì, ecco, ho avuto la sfortuna di farmi male in allenamento, può capitare, e ovviamente non ero contento perché avrei voluto stare con la squadra e aiutare la squadra, però ho avuto pazienza, sono cose che succedono e sono andato avanti. Infortunio allo zigomo, diciamo che nella sfortuna c'è comunque la possibilità a livello atletico comunque di mantenere una certa condizione, è così? Sì, diciamo che per il primo mese devi evitare comunque sforzi fisici, non puoi stringere l'occhio, non puoi comunque... è come se ti fai una lesione muscolare. Non c'è molta differenza dal punto di vista del recupero. Andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo turno prepasquale, prima di provare a mettere a fuoco quello che potrebbe succedere di qui in avanti, con i risultati che hanno scandito appunto questa pausa, quello più significativo ad anni del Fano è la vittoria nello scontro diretto peraltro del vasto Girardi sulla Matese che ha consentito alla formazione molisana di operare il sorpasso, Alma che ora è penultima e finisse oggi il campionato sarebbe retrocessa, lì in fondo un passo in avanti fondamentale l'ha fatto il Termoli che peraltro macina da un po' dall'inizio del girone di ritorno in pratica, da quando si è rafforzata, che è passato sul campo della United Riccione che non so se sei d'accordo, noi continuiamo a definirla la grande delusione di questo campionato perché ha un organico da primi posti. Sì assolutamente, Riccione dici? Riccione esatto. Anche perché ci ha battuto, quindi abbiamo visto una bella squadra e ovviamente avrebbe potuto fare di più. Sempre lì in coda, da notare come il Real Monterotondo sia passato a Notaresco, e Notaresco ha messo i bastoni fra le ruote a molte, quindi un risultato tutt'altro che banale, mentre per quello che riguarda il Sore è caduto in casa con la Vigor Senigallia ed è caduto anche il Tivoli contro il Roma City. Tivoli che non sembra attraversare il suo miglior momento, non vince da un mese e mezzo, anche in quel caso Vittoria sul Chieti, quello stesso Chieti che forse in quel momento lì non era il meglio, anche voi avete largamente battuto. Sì, adesso affronteremo il Tivoli, che anche loro non stanno passando un bel momento, ma nemmeno noi, quindi sarà una guerra domenica. Domenica prossima a Tivoli. A questo riguardo, dopo aver visto anche la classifica, andremo appunto a scrutare l'orizzonte. classifica che dicevamo, vede appunto l'Alma Juventus Fano al penultimo posto, basto girarvi a un punto, ma non è solo questo il rapporto che bisogna tenere in considerazione, perché c'è questo differenziale degli otto punti dalla sest'ultima, entro il quale bisogna rientrare perché altrimenti i play-out salterebbero. e la sest'ultima è attualmente appunto ad una distanza considerevole, tra l'altro il Real Monterotondo sta anche marciando piuttosto speditamente. Dicevamo delle partite che attendono l'Alma di qui alla fine della stagione, andiamo a vedere. Tivoli la prossima domenica, poi Roma City in casa, Sora Avezzano, Real Monterotondo. Due partite in casa, tre in trasferta, soprattutto tre scontri diretti. Ora, chiaramente, non è che bisogna contare soltanto sugli scontri diretti, però quando si gioca contro una rivale, i punti che si ottengono sono punti anche tolti a chi fa corsa contro di te. Certo, noi comunque dovremmo pensare solo a noi stessi, non agli risultati delle altre squadre. Ovviamente battere una diretta concorrente ci darà molta fiducia, e noi ci crediamo, abbiamo queste cinque finali, siamo convinti che ce la faremo. I numeri non raccontano tutto, però offrono sicuramente delle spiegazioni. Allora, analizzando quelli del Fano, quello che spicca è il numero di pareggi a scapito delle vittorie. 13 pareggi, troppi, 4 vittorie, troppo poche. Sì, ovviamente, se ci ritroviamo in questa situazione, è perché sinceramente non abbiamo dimostrato abbastanza le nostre capacità. Ovviamente sappiamo di poter fare molto meglio, abbiamo la possibilità di rimediare in queste ultime cinque partite, e credo che lo faremo. Qual è l'atmosfera che si respira all'interno dello spogliatoio? Perché ovviamente quando non arrivano i risultati, la classifica peggiora, l'umore non può essere dei migliori, anche la fiducia può in qualche modo essere intaccata. Sì, ovviamente, quando ti trovi in queste situazioni, l'umore non è uno dei migliori, però abbiamo la fortuna che siamo un gruppo fantastico, che nonostante non ci siano i risultati, comunque si respira un'area serena, concentrata e soprattutto determinata. La tua è un'ulteriore testimonianza della unità d'intenti di questo spogliatoio, ce l'hanno raccontata un po' tutti, già dalla scorsa stagione, può essere questa la vera chiave di volta per questo finale di stagione? Sì, assolutamente, perché nel calcio comunque il gruppo fa le differenze, non è il singolo che ti risolve la partita, ma è il gruppo che poi alla lunga ti porta al risultato finale. E come si dice, i cavalli si vedranno alla fine. Dicevamo di una Pasqua non certamente serena, perché dalla partita con l'Atletico Ascoli ci si aspettava di più, una prova più convincente e anche quella vittoria che avrebbe notevolmente risollevato questo morale. Sono stati appunto giorni difficili alla ripresa degli allenamenti, credo una sortita del Presidente Guida negli spogliatoi per caricare ulteriormente la squadra, ma non è rimasto al suo posto, si è ripartiti con una rinnovata energia. Sì, siamo tutti insieme, siamo tutti nella stessa barca e raggiungeremo l'obiettivo tutti insieme. Abbiamo fiducia del mister, della società e già questo è appunto un lato positivo per fare i risultati. Vi aspettavate anche voi dopo quella vittoria così larga, così squillante con il Chieti che fosse in qualche modo girata la stagione. Sì, anche io pensavo che da quella vittoria lì potevamo fare qualche risultato in più, però purtroppo non è andata così. Stiamo lavorando affinché raggiungiamo i risultati con più continuità. Continuità, che poi è necessario appunto perché di partite ce ne sono veramente poche. Nel finale di stagione conta tutto, conta l'aspetto nervoso, conta l'aspetto psicologico, ma contano anche le gambe perché ci sono tante partite alle spalle, arrivano i primi caldi. Da questo punto di vista come vi sentite? Guarda, quello che conta secondo me di più è la testa. è stare liberi di testa perché è quella che fa funzionare tutto il corpo. Fisicamente i miei compagni li vedo molto molto bene. L'importante in questo momento, come ti ho detto prima, è liberare la testa. Quello che consiglio ai miei compagni, quelli magari un po' più giovani che ne risentono un po' di più, è quello di divertirsi comunque, di accettare questo momento come una sfida per il bene loro, per il bene della società e di una piazza che merita questa salvezza. Tanti giovani in squadra, non molti over, sentite una responsabilità particolare rispetto a questi giovani in un passaggio appunto così impegnativo? Assolutamente, perché noi dovremmo essere da esempio. Io nel mio modo cerco di aiutare i miei compagni con il mio vissuto calcistico, di consigliargli, di trasmettere soprattutto la tranquillità in questo momento di quello di cui abbiamo bisogno. Hai detto più di una volta tutti insieme, includi in questo tutti insieme anche i tifosi che magari dopo la partita con l'Atletico Ascoli erano molto rammaricati e ve l'hanno manifestato in maniera peraltro molto civile? Assolutamente, abbiamo bisogno dei tifosi nonostante tutto. Io come i miei compagni, come la squadra, li capiamo. Lo sappiamo quello che si prova da tifoso. Quando vedi la tua squadra che non riesce a dare il massimo, ma il nostro fino adesso è stato un problema di testa. però stiamo lavorando soprattutto su questo e chiedo di stare tranquilli ai tifosi. Tifosi che peraltro non hanno fatto mai mancare il proprio apporto, sia in casa che fuori e contando tre partite in trasferta e non vicinissime, averli anche in questi campi così ostici non sarà sicuramente un aspetto secondario. Veniamo invece alla tua storia personale. nasci nella Lazio, poi una serie di esperienze in giro per l'Italia. Come interpreti la tappa di Fano sperando che il finale sia il più positivo possibile in questo tuo percorso professionale? Sì, ho avuto in questi anni la fortuna di crescere nel settore giovanile della Lazio fino ad arrivare in prima squadra, all'esordio. Poi la mia carriera non è stata molto fortunata tra scelte sbagliate e infortuni. mi hanno portato piano piano a scendere di categoria per ritrovare il ritmo e poi ho avuto la fortuna di trovare il Fano che mi sta dando la possibilità di giocare, di mettermi in mostra e spero di ripagare la fiducia della società e soprattutto di risalire piano piano di categoria. molti allenatori nella stagione ci sono stati diversi cambi in panchina tutti si sono espressi nei tuoi riguardi con parole di sincero apprezzamento insomma il portiere a sentire appunto di chi allenava la squadra non è mai stato un problema. Sì, no, ovviamente questo fa piacere è quello che riconosco che anche io ho fatto i miei errori in questa stagione e magari avrei potuto fare meglio per aiutare i miei compagni non è stato così ovviamente l'errore aiuta a crescere aiuta a migliorare ed è quello che sto facendo per questo ultimo step di stagione. Realisticamente credi anche tu che l'unico obiettivo possibile al momento sia di arrivare ai play-out e poi giocarsi tutto in quella partita indipendentemente dal fatto di disputarla fuori casa e contro chiunque la classifica finale dovesse assegnare come avversario? Guarda in questo momento l'unica cosa che non dobbiamo fare è fare i conti ma pensare partita dopo partita adesso dobbiamo affrontare il Tivoli vincere a Tivoli e poi pensare alla prossima ecco. Grazie a Guido Guerrieri portiere dell'Alma Juventus Fano noi torniamo fra qualche istante Non c'è due senza tre potremmo banalmente dire premesso che gli organizzatori di questo evento auspicano che dopo il tre ci sia un quattro dopo il quattro un cinque e così via l'evento è l'Adriatic Green Trail di cui ci apprestiamo a celebrare l'edizione 2024 che è appunto la numero tre e ne parleremo con il nostro ospite Matteo Broccoli che è tornato a trovarci buonasera bentornato un saluto un saluto a tutti un saluto a tutti i ciclamatori Adriatic Green Trail terza edizione è presentato ufficialmente questa mattina nella sede pesarese di Confartigianato una presentazione in grande stile con il coinvolgimento dei tre comuni Pesaro Fano e Urbino con una particolare attenzione a Pesaro nell'anno di capitale della cultura e nella situazione specifica anche la partecipazione di Confartigianato che ha prestato la propria sede Certo è stata una giornata di presentazione molto molto importante perché il progetto Adriatic Green Trail è un progetto trasversale quindi che colpisce in maniera orizzontale il nostro territorio quindi i comuni coinvolti sono effettivamente quelli di Fano di Pesaro e Urbino e praticamente parliamo di regione Marche quindi abbiamo una manifestazione che ha il patrocinio di ben tre comuni e la regione Manifestazione vale la pena di ricordarlo che si concentra sul fenomeno del cicloturismo che è un fenomeno in grande espansione Sì ormai il cicloturismo è un'arma vincente è un modo di andare in bicicletta cercando di gustare il territorio quindi a proprio ritmo magari associando una sosta fermandosi a vedere magari il borgo e gustarne poi le prelibatezze Ci siamo sentiti ripetere in questi anni che il cicloturismo è una leva fondamentale per favorire anche la destagionalizzazione del turismo è così? Certo la nostra manifestazione AGT dura sì tre giorni ma in realtà ne vale 365 perché questa è la leva strategica abbiamo partecipanti che vengono da diverse regioni d'Italia che poi ritornano nel territorio magari con la famiglia magari con gli amici a passare un weekend a passare una vacanza ed è un periodo che dura tutto l'anno lo abbiamo già fatto in occasione delle precedenti edizioni ma ovviamente torniamo ad illustrare il contenuto di questa Adriatic Green Trail che cos'è in effetti sul campo allora Adriatic Green Trail è una manifestazione cicloturistica che permette ai partecipanti quindi provenienti anche da diverse regioni d'Italia di scoprire in bicicletta le nostre bellezze i nostri borghi quindi tre giorni all'insegna dello sport outdoor dislocati sulla nostra provincia sport come sinonimo di competizione ma in questo caso la gara non c'è in questo caso non c'è gara perché ognuno va al proprio ritmo l'importante dicevamo è arrivare perché ogni giorno sarà prevista una partenza ed un arrivo in un casolare del 700 sito a Santa Maria della Razzilla la Magione Broccoli da qui partiranno i vari percorsi a seconda del proprio livello di allenamento quindi 50 chilometri per i percorsi più corti 80 chilometri per i percorsi medi addirittura 120 chilometri chi chiaramente è allenato per prove di resistenza del genere e l'aspetto significativo peculiare di questa manifestazione ma non solo è quella di rivolgersi ad una platea la più larga possibile attraverso queste distanze si offre la possibilità a chiunque a seconda dei diversi gradi di preparazione di essere protagonista sì perché alla fine anche il tipo di bicicletta da utilizzare è molto vasto andiamo dalle bici da trekking dalle bici mountain bike fino ad arrivare magari alle gravel che sono più specifiche per questo tipo di percorso vanno benissimo le bike e quindi percorrere anche durante l'intera giornata 50 chilometri non è poi così irraggiungibile diversi gradi di preparazione e anche diverse età si è aperta a qualsiasi tipo di età abbiamo visto anche persone oltre 60 70 anni che hanno livelli di allenamento talmente diciamo alto che riescono ad imprese anche di percorrere 120 km in una giornata e ripartiamo dall'inizio ci si rivolge a chi è appassionato di bicicletta ma la proposta è destinata alle famiglie di chi è appassionato di bicicletta intendete calamitare su questo territorio i nuclei familiari che poi attraverso il classico passaparola possono portare qui anche altra gente sì anche perché negli eventi collaterali alla manifestazione AGT abbiamo proprio una giornata dedicata alle famiglie anche con bambini perché la domenica a tempo del 7 aprile è prevista una pedalata family con doppia partenza anche qui la Valenza è di unire il territorio doppia partenza da Pesaro Palla di Comodoro e Fano Arco d'Augusto tutti diretti verso Santa Maria dell'Arzella quindi pensiamo di partire da Fano con le famiglie un percorso completamente piatto già fatto anche l'anno scorso adatto ai bambini e ci sarà un bel ristoro con un bel pasta party poi che l'aspetta Santa Maria dell'Arzella entriamo nel merito del programma di queste tre giorni che si articola battendo fette diverse di questo territorio da prima credo Pesaro poi Fano infine Urbino ma spiegaci un po' meglio allora giustamente ogni giornata c'è un territorio dedicato e quest'anno iniziamo da Fano più che partire da Fano partiamo dalla colazione perché è molto importante anche per noi ciclisti che dobbiamo poi affrontare tante ore in bicicletta partire da un bel briefing e colazione tutti insieme anche per fare la scorta di energia il carico il carico e tant'è vero c'erano dei ragazzi proprio di Ancona che verranno in gruppo che mi hanno chiesto le uova sode al mattino non devono mancare per la forza insomma comunque andremo ad affrontare diciamo il primo percorso su Fano e l'obbligo è quello di entrare nei borghi farli tutti proprio anche le vie cittadine per poter scoprire magari un particolare che se non vai in bicicletta in quel giorno sicuramente ti sfugge vogliamo citare qualcuno di questi borghi? certo noi abbiamo arriveremo a Fano proprio all'Isippo passando però per Candelara e Novilara quindi andiamo proprio dopo la passeggiata dell'Isippo andremo poi tutto lungo l'Adriatico fino ad arrivare a Mondolfo in cui faremo i famosi tuffi entriamo dentro Mondolfo e di qui siamo subito arrivati a Terre Roveresche qui i borghi li faremo tutti da Piagge faremo Orciano Mondavio mi raccomando Mondavio proprio entriamo dentro la Rocca per poi risalire fino a il Convento Santa Vittoria chi c'è stato siamo quasi a Fratterosa e anche qui una chicca che merita perché magari l'obiettivo è anche scoprire luoghi che non sono di così estesa fruizione è certo infatti anche noi certe volte rimaniamo meravigliati perché usciamo magari da una strada bianca ci troviamo davanti a una bellezza incredibile che la scopre solo in quel momento entreremo a Sorbolongo anche qui invitiamo a visitare Sorbolongo perché è veramente fantastico da Sorbolongo è ora di tornare perché avremo sulle gambe 90 km buoni lo faremo però passando per Monte Maggiore e anche qui Monte Maggiore è estremamente molto bello entrare dentro le mura e torneremo alla Magione passando poi per San Cesario ovviamente si percorrono strade rigorosamente secondarie sì il Mast è strade secondarie prive di traffico faremo anche qualche sentiero per pedalare anche in sicurezza e gustarsi il territorio seconda giornata la seconda giornata è Urbino quindi una tappa molto molto interessante perché abbiamo avuto molti partecipanti da fuori che erano meravigliati come si potesse raggiungere Urbino partendo da Santa Maria della Razzilla senza incontrare macchine noi lo faremo passando per Monte Santa Maria che c'è stata una chiesa bellissima qua sopra Mon Baroccio che da quando l'abbiamo scoperta insomma è diventata meta fissa da parte dei cicloturisti un vostro fiore è l'occhiello è l'occhiello e una volta arrivati quindi a Monte Santa Maria scendiamo per Scotaneto dove c'è una bellissima strada che ci porta alle Cesane non mancherà chiaramente un ristoro sulle Cesane dopodiché svalichiamo finalmente Urbino da Urbino facciamo Fermignano e tutto il Pietralata quindi ci saranno anche dei lati tecnici perché il Pietralata è anche abbastanza impegnativo quindi una volta fatto il Pietralata anche qui è ora di tornare c'è il problema che bisogna attraversare le Cesane e lo faremo attraversando il Gaifa è una salita terribile bisogna arrivare lucidi ma chi ce la fa chiaramente poi gli aspetta il palcoscenico del Museo del Bali quindi abbiamo un teatro all'aperto faremo Cartoceto faremo saltare poi finalmente meritato ristoro per i sopravvissuti la terza giornata vi pare di capire e vi proiettate su Pesaro nell'anno di Pesaro capitale della Cura sì il finale c'è l'apoteosi proprio finale a Pesaro chiaramente si può decidere anche pedalando se puoi fare il percorso lungo o il percorso medio perché magari il terzo giorno uno può partire anche con poche energie e può decidere al momento di deviare verso il percorso medio comunque faremo tutta la panoramica ma quest'anno la panoramica la prenderemo da un sentiero quindi faremo Baia Flaminia in fondo da lì c'è un sentiero che ci butta direttamente nei tornanti della panoramica faremo tutta la panoramica e quindi sarà la volta poi dei borghi bellissimi di Gradara di Tavuglia dove l'anno scorso tantissimi sono voluti fermare a fare proprio la foto sopra il Renz di Valentino Rossi è una meta fissa andremo quindi a Talacchio col Bordolo entreremo dentro Monte Fabri dopodiché anche in questo caso torneremo e lo faremo per una salita inedita che ci porta Monte Guiduccio e Mon Baroccio avete sempre voluto precisare che il vostro obiettivo non è tanto raggiungere un picco di partecipanti quanto una platea a misura di un'organizzazione che punta sulla qualità sì noi ci piace coccolare i partecipanti quindi abbiamo un numero limitato di partecipanti in modo da curare poi ai minimi dettagli e alla perfezione l'aspetto organizzativo siamo sull'ordine dei 50-60 partecipanti al giorno anche perché significa poi 50-60 colazioni 50-60 ristori sul percorso e 50-60 ristori cene all'arrivo insomma il vostro quartiere generale è a Santa Maria dell'Arzilla in particolare in questo casolare di campagna sul quale si converge all'inizio e credo alla fine di ogni sortita sì anche qui diciamo è proprio l'aspetto ideale per poter vivere a pieno l'atmosfera l'atmosfera dopo anche la fatica quindi anche l'aspetto del cibo sarà mirato su gustare le prelibatezze del luogo quindi non mancherà il bianchello non mancheranno le nostre specialità insomma e anche una proposta questa che va orientata sul turismo italiano ma anche sul turismo straniero nel senso che qualche partecipante che arriva da fuori dai confini c'è sì l'anno scorso è stato curioso perché abbiamo registrato il primo partecipante straniero non è una ragazza tedesca che ha scelto di partecipare alla pedalata alla scoperta della Fanno Romana ma è un altro evento collaterale che proponiamo quest'anno il 4 aprile e quest'anno invece abbiamo un gradito ritorno perché parliamo tanto delle nostre eccellenze che vanno all'estero giustamente però bisogna che parliamo anche del ritorno delle nostre eccellenze quindi c'è un carissimo amico che vive da anni a Praga che viene proprio ritorna proprio a Fanno per poter partecipare alla manifestazione lo vogliamo citare sì è Lorenzo che non vedo l'ora di pedalare con lui tutti questi giorni dicevamo di Pesaro 2024 che vi ha colto in qualche modo all'interno di un programma che comprende una miriade di eventi e di appuntamenti sì per noi è stato un onore insomma essere inseriti e questo riguardo possiamo magari anche far scorrere qualche immagine della presentazione di questa mattina sì per noi è stato un onore proprio essere inseriti in un ambito del genere perché ci sono manifestazioni d'eccellenza e la nostra è un punto all'occhiello della provincia stessa insomma e poi tra l'altro un vostro pregio un vostro motivo di vanto è appunto aver fatto convergere su un unico progetto tre comuni che non è poi così scontato non è così scontato però qui ha vinto la bicicletta con la bicicletta le distanze si diminuiscono dove non c'è tempo quindi c'è possibilità di anche pedalare 24 ore è più facile raggiungere gli spazi e gli obiettivi anche in questo caso è più facile unire diversi comuni presentazione che avevamo detto già all'inizio è avvenuto nella sede di Confartigianato questo riguardo non dico che è nato un progetto però un'idea di massima si è venuta in qualche modo conformante si il problema di noi cicloturisti è che abbiamo la testa che va più veloce delle gambe quindi parlando proprio con Confartigianato quindi parliamo degli artigiani la via degli artigiani è nata proprio un'idea così di magari un domani inventarsi una pedalata alla scoperta degli artigiani della zona che sono poi dislocati fino alla provincia di Ancona quindi un'idea di andare a scoprire le nostre specialità dei nostri maestri artigiani è una cosa che ci attrae questa categoria di eventi non può non far leva sul volontariato nasce l'Adriatic Green Trail all'interno di Fano Corre l'associazione intitolata Alamberto Tonelli ed è un evento che si avvale anche del contributo di organizzazioni legate al volontariato come la Proloco proprio di Santa Maria dell'Arzilla sì sì la società d'appoggio è assolutamente Fano Corre che sposa i nostri principi correre dicevamo correre una maratona o fare un'esperienza gravel sono molto simili perché necessitano di una preparazione lunga ci si fisse un obiettivo sono attività che poi richiedono mesi e mesi di preparazione e quindi è molto simile a correre una maratona quindi gli ideali di Fano Corre sono molto vicini all'esperienza gravel quest'anno abbiamo avuto l'appoggio della Proloco di Santa Maria dell'Arzilla come dicevamo che ci permetterà poi di realizzare un bel pasta party finale domenica 7 per tutti coloro che arriveranno da Fano e da Pesaro attraverso le famiglie i bambini gli amici a proposito del pasta party mi pare ci sia un particolare da svelare quello della pentolona o qualcosa di simile ci racconti questa storiella abbiamo pensato a una sorpresa a tutti i partecipanti siccome saranno prevediamo almeno 100 partecipanti poi ci siamo anche noi che arriveremo dal giro lungo ci voleva qualcosa di grande per cucinare questa pasta per tante persone e abbiamo fatto arrivare dalla Spagna un pentolone per 100 persone insomma e dicevamo anche ai bambini bisogna che pedalino anche abbastanza forte perché devono arrivare prima di noi perché se arriviamo noi prima di loro noi siamo molto molto affamati e non vi fate scrupolo di lasciare a bocca asciutta ai piccolini chi prima arriva a mangiare Adriani di Green Trail che celebra appunto la terza edizione hai detto delle idee dei cicloturisti che vanno più veloci delle gambe e allora immagino che qualcosa per il futuro vi frulli già per la testa per rendere ancora più ricca e attraente questa iniziativa sì abbiamo abbiamo tante idee come delle social ride dicevamo che durante l'anno sono nate delle uscite collettive anche con persone che venivano da diverse regioni lo stesso alla scoperta magari una volta siamo andati a bere in una cantina al bianchello una volta siamo andati a mangiare magari semplicemente in un alimentare tipico di un borgo quindi queste uscite di gruppo le chiamiamo social ride e l'obiettivo è crearne sempre di più per andare a scoprire poi delle nicchie del nostro territorio Adriatic Green Trail 5, 6 e 7 aprile grazie a Matteo Broccoli noi torniamo fra qualche istante ormai sarete perfettamente a conoscenza che la mission che ci siamo dati con Sportissimo è quella di andare alla scoperta di discipline che non chiameremo minori ma meno conosciute di altre e alla categoria appartiene il paintball di che cosa si tratta? ce lo spiegheranno Andrei Dastic direttore sportivo del paintball Candelara e Joan Salvador allenatore del paintball Candelara buonasera e benvenuti ad entrambi buonasera buonasera allora chi vuole spiegare cos'è il paintball? vai mister allora il paintball è uno sport è una disciplina è un'attività che si svolge usando dei marcatori per macchiare le varnice gli opponenti è un tipo di disciplina che nacque a inizi degli anni 80 a fine degli anni 70 in Nord America e dopo vedendo l'esvolgimento di come si faceva tutto quanto divenne pian piano una disciplina sportiva che ha coinvolto a tante tante persone nel mondo perché integra tutto quello che c'è un sport no? dal lavoro di squadra la comunicazione la forza fisica quindi è molto completo come sport come disciplina anche divertente si fa tanto per il team building comunicazione intesa è molto attraente divertente una disciplina secondo me da conoscere le immagini possono forse aiutarci a capire meglio di che cosa si tratta ma spieghiamo anche le regole di questo gioco di questo sport andrei assolutamente le regole diciamo noi abbiamo sia a livello amatoriale che a livello agonistico cambia completamente tutto diciamo che a livello amatoriale noi disponiamo di un campo scenario e per provare il paintball come sport si usano dei marcatori diciamo semi automatici che sono fatti apposta per i ragazzi che noleggiano che vogliono provare il tipo di sport invece per quanto riguarda l'agonismo si gioca su un campo con i gonfiabili che si chiama speedball diciamo che l'obiettivo principale del gioco è di andare alla base avversare e toccare quanti sono i giocatori chiamati a competere dipende del livello ad esempio qua in Italia ci sono due livelli diciamo differenziati il regionale e il nazionale nel regionale si gioca tre contro tre con le dimensioni del campo un po' più ridotte il numero dei ostacoli inferiore al 5 contro 5 che invece è quello del nazionale la disciplina più praticata a livello mondiale diciamo per come è nato il paintball è un 5 contro 5 ma comunque per far sì che ci sia più possibilità anche per gruppi di amici e piccole squadre e il regionale tre contro tre permette anche di affacciarsi in una forma più semplice diciamo senza dover coinvolgere più gente il campionato mondiale per dire se gioca 5 contro 5 dopo ci sono discipline 7 contro 7 10 contro 10 dopo ci sono al di là delle spibole altre modalità del gioco che può coinvolgere come anni fa qua in Italia 60 contro 60 in un big game che diventa proprio una festa un casino una festa quali sono le caratteristiche che si richiedono in un giocatore di paintball caratteristiche principali non ci sono lo sport tecnicamente si impara è uno sport sconosciuto per la maggior parte delle persone quindi la tecnica è diversa da tutti gli altri sport diciamo quindi non c'è una caratteristica verrebbe da dire però buona mira quindi mano ferma buona mira si alena è tutto un allenamento quindi continuo quindi la mira la velocità lo spostamento run and shooting spostamento col sparo è tutta una cosa le scivolate le slide di destra il tuffo in avanti è tutto un allenamento continuo quindi nessuno conosce queste cose qua fin quando non le prova e piano piano si arriva agli obiettivi diciamo quanto conta invece la strategia in questo sport la strategia e la comunicazione è tutto al di là delle competenze che può avere ognuno è individuale diciamo la tecnica la forza è quello che porta più al successo è la strategia che uno svolge contro l'altra squadra è la comunicazione la strategia è base parliamo dell'attrezzatura vi siete portati dietro il marcatore da gara lo strumento diciamo così il marcatore elettronico e diciamo rispetto al noleggio cambia tutto perché è un marcatore elettronico quindi va impostato diciamo tutto elettronico sia il caricatore che diciamo c'è una ventola dentro per mandare le paline perché si spara in Italia comunque anche in Europa sono 10 paline al secondo quindi non possiamo superare una certa un certo numero di paline al secondo e anche una certa velocità quindi sono predisposti per calibrarli e diciamo è un marcatore elettronico non da gara diciamo più di così bisogna farlo provare per sparare qualche colpo per capire cos'è comunque molto veloce molto sensibile e quindi sono tante paline che partono uno strumento costoso? sì diciamo che il paintball ancora a livello di costi è un pochino perché è una cosa personale quindi tu te l'acquisti e magari per tutta la vita ti basta però costa anche perché la divisa poi che si deve indossare è particolarmente elaborata abbiamo delle immagini che testimoniano che ci si debba attrezzare in maniera molto articolata anche da questo punto di vista cosa si indossa? allora l'attrezzatura l'avvigliamento che si usa per il paintball soprattutto per la velocità alla quale si gioca parliamo di speedball soprattutto che è la disciplina che pratichiamo noi al di là dello scenario o altre competizioni boschive che ci possono essere porta le genocchiere diciamo porti anche le mutande di protezione porti la pettorina interna una maglietta interna di protezione gomitiere importante imprescindibile maschera c'è la fascia pure che copre dei colpi in testa come attrezzatura è un porta pot che è quello che ci permette di portare le ricariche il pot che a giorno d'oggi in Italia si gioca M500 una modalità la quale permette di portare oltre il caricatore che ha 250 palline altre 300 palline in due pot si chiamano i caricatori che indossi nella schiena e qualora finisci le palline c'è la possibilità di caricare viene da pensare che bisogna acquisire anche confidenza con questa imbraccatura notevole è così assolutamente assolutamente l'estate specialmente è molto faticoso si sente si accusa molto il caldo quindi ogni tanto togliamo la maletta di protezione e facciamo i duri e giochiamo senza abbiamo inquadrato il paintball in uno scenario generale ma veniamo alla realtà del paintball candelara quando è nata e che livelli ha raggiunto allora il paintball candelara è nato nel 2018 pre-pandemia avevamo il campo a disposizione dovevamo fare solo dei lavori e poi la fortuna nostra che abbiamo conosciuto è il nostro mister Joan che ci ha aiutato a costruire la squadra tutto quanto ci siamo allenati tantissimo dal 2018 in poi l'unica cosa che la pandemia ci ha fermato per quanto riguarda le gare erano solo allenamenti diciamo 2020 sì diciamo 2020 quindi ci ha fermato poi dopo la pandemia abbiamo cominciato a a cominciare le gare diciamo siamo una squadra giovanissima quindi il nostro i traguardi li faccio dire il nostro mister Joan età media quindi nella vostra squadra saremo adesso per fortuna sono entrati un paio di ragazzi giovani che hanno avvassato la media età considerevolemente perché come dicevi prima parlavamo prima non è un sport ancora a livello non è il primo sport che ti viene in mente di praticare effettivamente anche economicamente non è semplice arrivarci a fare una spesa complessiva di quei mille mille cinquecento due mila euro che ci vuole per un'attrezzatura completa di gara diciamo noi in quel senso abbiamo permesso mi metto io per primo perché quella volta fece diciamo la donazione al team dei sei equipaggiamenti quale usavamo in tutti per poterci allenare e la media età adesso sarà sui venticinque trent'anni e gente che arriva da altri sport che ha praticato altre discipline oppure gente che è cresciuta con il paintball no nessuno mai di loro ha giocato a paintball diciamo nessuno di loro ha giocato a paintball chi ha fatto calcio amatoriale o chi ha fatto altri tipi di sport ma nessuno ha fatto il paintball e si è poi appassionato si è appassionato perché è un gioco molto ma molto vivace adrenalinico e ti dà soddisfazioni quando impari a giocare diciamo risultati e anche obiettivi che vi ponete per il futuro per il futuro vogliamo consolidare una squadra in serie A nel nazionale perché fino ad oggi per certi motivi non c'è stato possibile fare una squadra di sette giocatori una rosa di cinque sette giocatori fissi un po' altalenante chi smette chi va in viaggio chi va a vivere in Inglaterra alla fine diciamo che l'obiettivo a giorno d'oggi è arrivare al nazionale con garanzie quest'anno penso che con le nuove integrazioni riusciremo a essere pronti per la stagione 2025 quest'anno ci focalizziamo soprattutto nel regionale che l'anno scorso abbiamo fatto delle belle figure abbiamo finito in quarto posto siamo arrivati sempre tra i quattro primi arrivando ai semifinali ormai l'esperienza ci manca un pochino ma ci stiamo lavorando e raggiungeremo penso e spero e auguro bei traguardi e dal resto l'esperienza si costruisce facendo gare non c'è un modo diverso il vostro impianto dove appunto suoggete la vostra attività noi siamo situati a Candelara Pesaro diciamo nel campo sportivo ex campo sportivo di Candelara diciamo abbiamo due campi come dicevo prima campo scenario per chi si avvicina amatorialmente e il campo speedball diciamo che lo possono sempre provare anche i ragazzi amatori ma principalmente per noi per allenamento e le gare che stiamo facendo tra di noi diciamo al momento per chi volesse fare il paintball seriamente qual è l'età alla quale ci si può avvicinare a questa disciplina dai 14 anni in su possono usare già il marcatore elettronico il marcatore con una bombola diciamo incorporata sotto i 14 quest'anno c'è il progetto anche di fare una squadra dei piccoletti dai 9 ai 14 ai 13 anni diciamo però usano un altro tipo di fucile ed è potenziato fatta apposta per i bambini diciamo a molla senza aria compresa però dai 14 anni in su chiunque voglia provarlo con la nostra squadra benvenuto a proposito di provare credo che più di qualcuno possa essere incuriosito da questa trasmissione qualcun altro magari ha già conoscenza di questa possibilità perché comunque si tratta di un'esperienza diversa dalle solite e non so credo che il messaggio che vogliate lanciare è che vale la pena provare assolutamente sì è una cosa da provare diciamo che un allenamento è sempre gratuito con noi per prova quindi chiunque voglia di mettersi la prova che voglia provare questo tipo di sport è solo benvenuto ci sono anche gruppi di persone che vi si presentano per dire vogliamo provare tutti assieme ci sono stati ma i risultati erano pochi diciamo diciamo che la maggior parte delle persone venne singolarmente o magari con un amico perché poi credo sia più semplice comunque farlo entrare nel meccanismo in qualche maniera dopo con un gruppo numeroso è diciamo che è un pochino più difficile a spiegargli un po' tutte le cose diciamo un gruppo e poi comunque sia si può fare comunque si può fare assolutamente andrei andrei è di origine moldava johan è di origine catalana insomma c'è un tocco di internazionalità in questa esperienza il paid volcandelare è così ci sono altri stranieri o siete gli unici assolutamente sì ci sono altri stranieri in squadra c'è un ragazzo ucraino c'era un ragazzo americano che dicevo che è andato a vivere a Londra l'anno scorso poi c'è anche un ragazzo della marca del sud di Montecosaro e comunque credo anche un esempio di felice integrazione questo paid volcandelare assolutamente il bello è che al di là di tutto andando alle gare facendo le trasferte si è creato un ambiente di famiglia che tra di noi c'è un bel rapporto d'amicizia un bel clima sì anche la fiducia perché quello che fa il paintball soprattutto dipende da quello che c'è dietro che ti copre per dire assolutamente abbiamo detto di quelle che possono essere le caratteristiche per fare bene paintball sono caratteristiche che però si possono affinare con il lavoro cioè dove uno magari è più carente alla possibilità allenandosi di crescere e magari di riuscire a fare delle cose che inizialmente non gli riescono certamente la gente quando arriva a provare il paintball per prima volta soprattutto il paintball sportivo non noleggio che capiscono subito che non è quello che pensavano quindi ci sono tante modalità dall'entrimento l'idea ve lo dico in grande sincerità è quella di una battaglia ci si spara contro un atteggiamento molto militaresco magari così l'impressione che si suscita in realtà in realtà soprattutto quello che devi capire è la arimmetica del campo come occupare spazi come posizionarti dietro del bunker come far vedere la minima forma di sagoma quando uno esce all'ora di sparare come muoversi come posizionarsi nella partenza quando partire e cambiare bunker quindi si può e si migliora sempre perché chi arriva dei paintball non sa nulla quindi è tutto di imparare qualunque roba che si fa nel paintball non è a caso le posizioni sono molto sacrificate gente di tutta una vita che gioca a calcio che fa pallacanestro o rugby viene a giocare a paintball dopo il primo allenamento non riesce a muoversi il giorno dopo tra virgolette perché dici cavolo com'è possibile perché sono movimenti diversi dal solito assolutamente sì continuamente stai spostandoti a posizione alto basso sdraiato per terra così di non far al contrario prevedere dove uscirai quindi una volta in alto a destra altra volta in basso a sinistra quindi è fisicamente molto impegnativo vi rivolgete anche all'universo femminile oppure escluso assolutamente sì assolutamente sì perché quello che vi volevo dire è che comunque ci sono le varie nazionali italiane sia femminile dall'anno scorso c'è anche la nazionale femminile quindi tutte le ragazze sono benvenute a provarlo noi siamo solo contenti perché comunque è uno sport per tutti non è solo per maschi ma anche per la parte femminina quindi per le ragazze quindi assolutamente speriamo che arriva qualcuna per il prossimo futuro c'è anche in ballo una vettura mondiale così? sì ogni anno si fa in una location diversa quest'anno si fa in Francia vicino a Parigi si fa il campionato mondiale quest'anno avrò l'onore di indossare la maglia dell'Italia guidando la nazionale? o per 40 i veterani ormai a una certa età dobbiamo fare bisogna adeguarsi grazie a Andrei Dastic direttore sportivo del Paintball Candelara grazie a Johan Salvador allenatore del Paintball Candelara grazie anche a tutti voi per averci seguito vi aspettiamo come sempre la settimana prossima grazie a tutti